Questo ve lo dico, però... Però guarda i libri che ha scritto. È vero. Due più due paquato. Guarda i libri che ha scritto. Terni, Quaterni, il 90 Palermo. Se oggi li vanno a Manera è qui che vi consegna il 21 da Terno Secco. Terno 21, Terno Secco. È perché il 21 esce, non ci sono dubbi, ve lo dico io. Non ci sono dubbi.